E' venerdì, 8 settembre, ci troviamo al nuovo di Castelfrentano, amichevole, amichevole con il Fossa Cessia, Fossa Cessia calcio con le maglie bianche e pantaloncini rossi, qua in posto, chiudiamo la settimana di intensi allenamenti con questa partitella, questa gara amichevole, tra le due società, qui c'è il Fossa Cessia. Il gruppo che si muove da questo lato è sicuramente il blocco dei titolari, e da quest'altro lato c'è i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano, ci sono ragazzi 2001-2002 e qualche 2003, le tre, in questo blocco, con la classica divisa giallo-blu, qua c'è il mister Gabriele di Felice, qua il mister Giovanni di Giulio, partiamo da destra a sinistra, c'è il nostro Amedeo, Cristian, Teidi, Michele, Lele, Matteo, Guido, Andrea, Nicola, Alessio, Riccardo, Nicolò, Bartolo, Ramundi, Fabio, Manuele, Karan, C'è anche il ritorno di Lorenzo Cuniberti detto Pitbull, abbiamo anche Luca Rulli, si è fatto un bel taglio di capelli oggi, sempre molto lenti verso la tribuna dove di qua, bacino basso, bacino basso, il ritmo al battito rimasta, il ritorno, il ritorno, il ritorno, anche qua, si riscaldano,